Terme di Sciacca, non è vero che la regione ha chiesto un'integrazione dei documenti, così il sindaco Francesca Valenti smentisce gli esponenti del Movimento 5 Stelle che l'avevano accusata di non dar comunicazione alla città. Si avvicina il carnevale estivo e monta la polemica sul periodo scelto. Si torna a scuola l'indomani della manifestazione, ma l'amministrazione dice sono stati dirigenti ad anticipare di due giorni la data regionale. 45 milioni di euro per la viabilità in Sicilia, ma neanche un centesimo per la provincia di Agrigento. Ad attaccare il governatore Musume ci sono i parlamentari Mangiacavallo e Dicaro. Agrigento, dicono, c'è n'è rentola della Sicilia. Stanchi di aspettare ieri, i residenti del Ferraro sono passati all'azione e hanno ripulito il quartiere raccogliendo diversi sacchi della spazzatura. Prossimo passo alla costituzione di un comitato di zona. Cultura, bella serata di musica con l'orchestra Mediterraneo Ensemble, sabato scorso nella suggestiva location del cortile Cattano. All'Abbadia Grande ieri sera in tanti hanno assistito allo spettacolo Dragunare e al comune Creazioni sotto le stelle. Sette note all'italiana è il titolo del concerto di Nanà e di alcuni giovani musicisti saccensi in programma questa sera al complesso monumentale dell'Abbadia Grande. E' un omaggio alla musica italiana e ai brani più celebri di celebri artisti. Ben trovati anche oggi al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Non è vero che la regione ha chiesto un'integrazione di documenti. Così oggi il sindaco Francesca Valenti replica le polemiche promosse dal Movimento 5 Stelle riguardanti una lettera dell'assessorato all'economia di cui il sindaco è stato accusato di non arvedato comunicazione alla città. Ascoltiamo Francesca Valenti intervistata da Massimo D'Antoni. Vediamo un attimo della questione termine. I giorni scorsi il Movimento 5 Stelle l'ha accusata di tenere nascoste le notizie a partire dalla presunta lettera della regione siciliana datata 17 agosto. Come replica? Che non è vero. Che al comune non è arrivata nessuna formale richiesta di integrazione. e quindi non si è attivato il gruppo intersettoriale terme, gli uffici non sono stati attivati, non c'è nulla in protocollo di entrata in questo comune come richiesta di integrazione di documenti e che quindi non si può comunicare una cosa che non è documentale, non è formale. C'è sempre quel problema che si confondono i documenti, le richieste informali con le richieste informali. Si crea sempre tanta confusione. Qualcuno preferisce creare confusione perché nella confusione è più facile poi far passare qualunque tipo di messaggio. Non è così perché comunque secondo me bisogna fare sempre chiarezza perché poi la chiarezza nel bene o nel male paga. Basta dirsi le cose come stanno, a quel punto possono essere anche dolorose ma almeno si fa fronte alla cosa sgradevole. Sulla vicenda terme il comune non è stato chiamato ad aggiungere nulla. Vero è, perché mi sono informata a quel punto proprio in seguito alla notizia, vero è che per conoscenza, per capire come era stata impostata la scheda dal Dipartimento Regionale Tecnico, questa sorta di scheda impostata era stata trasmessa alla mail personale dell'assessore Sette Casi, ma a titolo informativo come per dire noi abbiamo preparato già la scheda e se vuole può dare un'occhiata a come abbiamo pensato di fare il lavoro. Altra cosa invece domani c'è riunione del tavolo tecnico, domani c'è riunione del tavolo tecnico in Dipartimento all'Economia proprio per capire se queste schede sono complete, alcune cose dovevano essere integrate da terme liquidazione S.P.A., quindi era quello il soggetto che verosimilmente doveva integrare alcune cose. Domani è un incontro importante perché noi ricordiamoci che era stato dato il termine del 15 settembre e domani già il 4 settembre e domani dovrebbe servire proprio a capire se tutti i dati necessari e utili ci sono. Sembrerebbe di sì, ma questo è ovvio che si aspetta domani per capire formalmente cosa il tavolo tecnico dirà. Quindi questa polemica strumentale? Sì, la definirei strumentale. Mi chiedete come sia stato possibile far coincidere la fine del Carnevale estivo con l'inizio della scuola? Domandate ai dirigenti scolastici piuttosto perché abbiano anticipato di due giorni la data fissata dalla Regione. E questo è il commento di Francesca Valenti in ordine alla polemica che scaturisce dalla delicatezza della questione scolastica e delle possibili conseguenze riguardo l'avvio delle elezioni. Ancora una volta Massimo D'Antoni. I presidi dicono perché il Comune ha fatto il Carnevale il giorno prima, allora io rispondo perché voi invece non mantenevate il 12 o facevate l'11 anziché farlo coincidere col giorno dopo? E' destinata a far discutere la dichiarazione di oggi di Francesca Valenti in merito alla concomitanza tra l'ultimo giorno dell'anteprima Carnevale 2019 in programma il 9 settembre e il primo giorno di scuola fissato per l'indomani lunedì 10 ad eccezione dell'Istituto Mariano Rossi che ha scelto l'11. I dirigenti scolastici sapevano di questa scadenza. La scuola, peraltro, doveva iniziare il 12 eppure hanno deciso di anticipare di due giorni. Quando si è parlato di questo fine settimana per il Carnevale estivo e io ho ribadito non si parla di destagionalizzazione perché non significa destagionalizzare fare un evento a settembre ma è promozione in un momento in cui ancora abbiamo presenze turistiche in un momento in cui ci possono essere nuove presenze soprattutto nelle strutture ricettive più piccole, pensiamo a B&B perché gli alberghi sono ancora tutti pieni. Quando si è immaginato questo fine settimana la data ufficiale d'inizio delle elezioni è il 12 quindi comunque c'erano quei due giorni per potersi riposare. A questo punto io potrei dire al contrario allora sono i dirigenti che hanno anticipato il giorno di elezione facendolo coincidere con il giorno seguente alla domenica di Carnevale quindi anche lì è una polemica che mi permetto di dire non è proprio fondatissima. Dunque era evitabile per il sindaco di Sciacca questa concomitanza tra il Carnevale e l'inizio delle elezioni ma in ogni caso non sarà certamente un'edizione del Carnevale uguale a quelle invernali ma solo un assaggio. È anche vero che questo non è il Carnevale di cui parliamo in inverno è un Carnevale che è un evento spettacolo e che quindi finirà in un orario compatibile con l'evento spettacolo e quindi anzi può essere utile perché i giovani e coloro che devono iniziare l'indomani ad andare a scuola è un motivo per non fare troppo tardi e soprattutto per mantenere un certo decoro nella partecipazione alla festa. Max controllo del territorio in tutta la provincia di Agrigento lo scorso fine settimana da parte dei carabinieri in azione pattuglie delle 43 stazioni dell'arma disseminate in ogni comune dell'Agrigentino 100 i carabinieri impegnati che hanno identificato circa 300 persone controllato oltre 200 veicoli sono state elevate una dozzina di sanzioni in particolare per mancato uso delle cinture di sicurezza ed uso del telefono cellulare alla guida in due casi è scattata la denuncia per guida e stato di ebrezza nell'ambito di tali controlli ad Agrigento i carabinieri del comando provinciale supportati dai colleghi del nucleo tutela lavoro nel contesto delle attività che hanno riguardato esercizi pubblici ed intrattenimento hanno effettuato un controllo presso un noto locale pubblico del centro storico scovando all'interno due lavoratori risultati in nero al termine delle verifiche per il titolare è scattata una multa di 8 mila euro dei 45 milioni di euro stanziati dalla regione per le strade siciliane non c'è neanche un euro destinato all'agrigentino e le nostre interrogazioni continuano a rimanere lettera morta e questo è il duro attacco dei deputati regionali agrigentini del Movimento 5 Stelle, Giovanni Di Caro e Matteo Mangio Cavallo al governo Musumeci, ne parliamo nel servizio Strade agrigentine tagliate fuori dai finanziamenti annunciati nei giorni scorsi dalla regione per la viabilità secondaria a rivelarlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro e Matteo Mangio Cavallo che sferrano un duro attacco al governo Musumeci in pratica dei 45 milioni di euro stanziati per le strade siciliane in provincia di Agrigento non arriverà neanche un centesimo nonostante la viabilità agrigentina sia tra le più disastrate dell'isola con manti stradali quasi inesistenti pieni di buche e avvallamenti eppure, osservano i due deputati pentastellati la regione sembra non accorgersi di tutto questo e continua a ignorare le nostre reiterate segnalazioni e le numerose interrogazioni presentate dal Movimento 5 Stelle dalle nostre parti ogni giorno si rischia la vita osservano i due parlamentari regionali e abbiamo potuto constatarlo personalmente durante il nostro recente tour sulle incompiute siciliane e c'è l'appello rivolto al presidente della regione ad intervenire e a rivedere gli stanziamenti l'elenco delle strade pericolose nell'Agrigentino è lunghissimo e i due deputati hanno anche indicato le situazioni più critiche al centro degli atti parlamentari presentati all'assessore regionale Falcone ma rimasti lettera morta si va dalle strade che servono i comuni di Cianciana Alessandria della Rocca, San Viaggio Platani, Bivona, Santo Stefano Quisquina e che permettono di raggiungere in poco tempo la zona di Araclea Minua, Montallegro, Real Monte, Siculiana e Porta Empedocle alla provinciale 32 Cianciana-Ribera ed ancora la strada provinciale 45 Montevago-Sala Paruta la provinciale 3 Crocca-Sant'Anna la Siculiana-Montallegro la Racalmuto-Monte d'Oro e la provinciale 19 San Viaggio Platani-Raffadali si tratta, concludono Mangiocavallo e Di Caro di strade quasi impercorribili pericolosissime che spesso rappresentano le uniche vie di accesso ai paesi di una provincia sempre più isolata e dimenticata dal governo regionale Siamo alla cenerentola della Sicilia questo è il commento della segreteria provinciale della UIL in merito all'esclusione della provincia di Agrigento dai 45 milioni di euro previsti per il patto del sud alla viabilità provinciale siamo a dir poco sconcertati dichiara il sindacato dopo aver appreso che per Agrigento la sua provincia sono stati accantonati 0 euro una distribuzione delle risorse ancora una volta iniqua ed offensiva per il territorio conclude la UIL Ci fermiamo per la prima pausa Muniti di scope ma soprattutto di buona volontà i residenti di contrada a Ferraro ieri mattina hanno ripulito la cavea del quartiere diversi sacchi di plastica, carta ed altri materiali raccolti durante l'azione spontanea dei cittadini che in questo modo hanno voluto dimostrare quanto la zona necessitasse di attenzione e maggiore pulizia Il prossimo passo, continuano i residenti sarà la costituzione di un comitato di quartiere vediamo Stanchi di vedere il proprio quartiere sporco ed abbandonato ed armati di buona volontà ieri mattina alcuni residenti di contrada a Ferraro hanno deciso di ripulire la zona partendo dall'area della cavea decine di cittadini si sono riuniti muniti di scope, guanti e sacchi per raccogliere carta, plastica e quant'altro era disseminato da chissà quanto tempo nel piazzale una iniziativa che ha tutto il sapore della provocazione come ci spiega Nino Vitale uno dei diversi residenti del Ferraro che ieri si sono sbracciati le maniche l'azione spontanea ha voluto richiamare l'attenzione dell'amministrazione verso il quartiere non vogliamo sostituirci a chi è deputato a fare ciò però con questa azione dimostrativa vogliamo porre l'attenzione al nostro quartiere che ormai è diventato uno dei più popolosi di Sciacca e abbandonato non vogliamo assolutamente che diventi un dormitorio ma che abbia la giusta attenzione come tutto questa è un'azione dimostrativa dove per le prossime chiediamo e pretendiamo maggiore attenzione da parte delle istituzioni è un quartiere come dicevo tra i più popolosi è diventato meta di ragazzi dove bivaccano anche la sera dando disturbo dove per certi versi la strada principale è diventata quasi una pista motociclistica automobilistica e chiediamo la normale vivibilità del quartiere tutto qua adesso il prossimo passo aggiunge Vitale è la costituzione di un comitato di quartiere che possa presentare formalmente nelle sedi opportune le richieste dei residenti questo è l'inizio proprio per avviare l'iter del comitato ferraro che sorgerà presto faremo un'assemblea generale anzi invitiamo tutti i residenti e i titolari di attività della zona a partecipare alla prossima assemblea che ufficializzeremo a breve e successivamente le elezioni per costituire finalmente il comitato e far sentire la propria voce in comune a ripulire la cavia ieri anche alcuni giovani dallo spiccato senso civico come a Cursio Curreri assieme agli altri residenti della zona abbiamo deciso quindi di impugnare Palette e Scope con l'obiettivo di raccogliere l'attenzione degli altri residenti il nostro auspicio e la speranza è quella di lanciare un messaggio cioè che l'azione di pochi possa risvegliare quel senso di appartenenza comune e quel senso civico che purtroppo nell'ultimo periodo è stato un po' trasandato l'unione fa la forza quindi il comitato specie in Contradaferraro ha un senso bisogna anche ricordare che Contradaferraro nell'ultimo periodo è stato oggetto di un importante incremento demografico e quindi sarebbe più opportuno un maggiore interesse da parte dell'ente comunale e pertanto riteniamo collettivamente che la creazione l'istituzione di questo comitato sia fondamentale per meglio rappresentare le esigenze del quartiere Sanità Assemblea cittadina del Comitato Civico per la Sanità lunedì 10 settembre al Circolo di Cultura un incontro al quale saranno invitati a partecipare sindaci e parlamentari per affrontare e analizzare le problematiche inerenti alla nuova rete ospedaliera Racket delle estorsioni nel secondo semestre dello scorso anno sono aumentate in provincia di Agrigento le denunce ma anche le minacce e i danneggiamenti prende spunto dai dati diffusi dal Ministero dell'Interno il testimone di giustizia Ignazio Cutrò per formulare l'ennesimo appello agli imprenditori e alle associazioni di categoria a fare squadra e denunciare sentiamo dal primo giugno al 31 dicembre 2017 in provincia di Agrigento si è registrato un incremento rispetto al semestre precedente delle denunce di casi di estorsione pari al 78% sempre nel medesimo periodo sono aumentati anche i casi di minacce il 20% in più con oltre 400 episodi accertati in aumento anche i danneggiamenti oltre 500 episodi di vigneti e uliveti prende spunto da questi dati diffusi dal Ministero dell'Interno il nuovo appello di Ignazio Cutrò agli imprenditori a non piegare la testa al racket delle estorsioni a fare squadra e a denunciare dati che preoccupano anche se secondo la Direzione Investigativa Antimafia sono sostanzialmente in linea con l'ultimo quinquennio le estorsioni tradizionalmente precedute da minacce intimidazioni e danneggiamenti colpiscono imprenditori e operatori commerciali di diversi settori la crisi di liquidità porta poi la criminalità organizzata a concentrarsi principalmente sui piccoli imprenditori e commercianti così come secondo la DIA c'è ancora un nutrito gruppo di imprenditori compiacenti che mettono a disposizione dell'organizzazione mafiosa la propria impresa Cutrò presidente dell'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia invita anche le associazioni di categorie e le organizzazioni sindacali ad intensificare le attività di sensibilizzazione alle denunce chi come me ha scelto di denunciare ha perso tutto ma non la dignità ribadisce Cutrò ha visto cambiare la propria vita e quella della propria famiglia ma tutto questo è servito per ottenere alcune normative che oggi sono punto di riferimento per tutti i testimoni di giustizia conclude Ignazio Cutrò il quale si dice pronto a continuare ad accompagnare dalle forze dell'ordine tutti quegli imprenditori che decideranno di denunciare e di scegliere un percorso di legalità Tanti visitatori a Secca Grande lo scorso fine settimana per il Pizza Fest Young anteprima del Pizza Fest che ha preso il via il 31 agosto e che si è concluso ieri sera tre serate di cabaret molto apprezzate dal numeroso pubblico ad aprire l'anteprima Pizza Fest è stato Roberto Lipari sabato è stata la volta del duo i soldi spicci e ieri sera lo spettacolo Sicilia Cabaret con tantissimi comici che hanno proposto parodia e sketch assai divertenti quattro i forni allestiti sulla spiaggia di Secca Grande per la degustazione delle pizze preparate dai pizzaioli riberesi cala dunque il sipario sull'anteprima Pizza Fest una formula ben riuscita che ha registrato l'apprezzamento da parte del numeroso pubblico commenta soddisfatto l'assessore allo spettacolo Francesco Montalbano l'attesa adesso è per il Pizza Fest 2018 in programma dal 13 al 16 settembre prossimi concerto dell'orchestra mediterraneo ensemble sabato sera a Schac nella suggestiva location del cortile Cattano un'iniziativa che rientrava nell'ambito delle manifestazioni della stessa si accenze sentiamo una bella serata di musica in un angolo suggestivo del centro storico di Sciacca il cortile Cattano ad esibirsi davanti ad un numeroso pubblico l'orchestra mediterraneo ensemble diretta dal maestro Nicolo Lipari che ad una prima parte riservata da musica classica con il concerto in sol maggiore per archi alla rustica di Vivaldi e al rioso di Bach ha poi alternato musiche di Morricone e Piazzolla e anche il folk rock dei The Course gruppo erandese un vasto repertorio quello proposto dall'orchestra mediterraneo ensemble che è stata costituita nel 2014 per valorizzare i giovani talenti e offrire loro l'opportunità di praticare la musica d'insieme e diffondere questa esperienza culturale nel territorio affiancati da musicisti professionisti particolarmente apprezzato il brano in dialetto di Stino di Mari di Federico e Stella con la giovanissima Sara Catania che ha incantato i presenti con la sua voce L'orchestra diretta dal maestro Niccolò Lipari e con al pianoforte Eleonora Ardizzone è andata anche oltre il programma del concerto coinvolgendo alcuni musicisti che erano venuti ad assistere allo spettacolo in una location insolita ma che è stata molto apprezzata la scelta del cortile cattano si è rivelata particolarmente azzeccata perché ha consentito di scoprire una parte del centro storico della città di Sciacca al più sconosciuta seppure intrisa di storia siamo nel quartiere ebraico e affaccia proprio nel cortile cattano una delle sinagoge che erano presenti in città musica e cultura dunque sabato sera perché grazie alla collaborazione della professoressa Scandaliato e di Mimmo Rizzuto nel corso dello spettacolo è stata ricostruita la presenza degli ebrei a Sciacca una iniziativa talmente apprezzata dal pubblico e da saccensi che risiedono nella zona da portare l'amministrazione presente con il sindaco Varenti il vice sindaco Bellanche e l'assessore Alongi ad annunciare la volontà di ripeterla il prossimo anno nell'ambito dell'estate saccense Tanta gente ieri sera all'abbadia grande per Dragonara ipotesi per una sceneggiatura di Antonello Licata lo spettacolo prodotto dalla Vertigo è stato messo in scena da Giuseppe Raso vediamo sparisce la vela e arriva il motore è il progresso la vostra è un'idea che intendo assolutamente finanziare la Dragonara come metafora della vita come turbinio di vicende storie vissute è stato questo il tema dello spettacolo andato in scena ieri sera all'arena giardino della badia grande davanti a tantissima gente sullo sfondo la storia della famiglia Licata quella del poeta Vincenzo raccontata dal figlio Antonello che ha immaginato una sceneggiatura di un film tuo nonno è una persona che ha larghe vedute guarda il futuro ha una predilezione per il progresso scopre che in altre parti d'Italia le barche per la pesca già viaggiano a motore e vorrebbe introdurre questa innovazione anche dalle nostre parti propose di acquistare un motore e quindi di installarlo la risposta fu no motivazione il rumore del motore fa scappare i pesci in altri mari ma non era questa la giusta motivazione giustamente i pescatori davanti a una novità del genere un evento che avrebbe sconvolto le loro abitudini le loro vite non avrebbero digerito non avrebbero metabolizzato questa entrata così violenta come la voleva in pratica un po' mio nonno le vite delicate le prese con la fatica del mare con la voglia di progredire dare un senso al futuro al progresso e si tuffa in mare uno spettacolo che la nostra emittente ha ripreso integralmente e che vi proporremo nei prossimi giorni passiamo bene le mele addio la sorte io non lo salutare resta da un'ora posso seri io un po' mio nonno Grazie a tutti. E' di 700 euro il ricavato della serata di beneficenza musica e varietà organizzata sabato sera con lo scopo di destinare fondi alla mensa della solidarietà di padre Pasqualino. Una vera e propria festa della solidarietà così come aveva anticipato padre Pasqualino che ha permesso anche di riqualificare e pulire la piazzetta del campanile di San Michele. Vediamo. Ammonta 700 euro il ricavato di musica e varietà, lo spettacolo che diversi artisti hanno contribuito a realizzare per raccogliere fondi a destinare alla mensa della solidarietà fondata da padre Pasqualino. Musica e varietà è stato uno spettacolo con sullo sfondo la possibilità di ricevere alcuni premi messi in palio. Obiettivo? Raccogliere offerte che possano servire a contribuire a coprire le tante necessità della mensa di Santa Caterina. Allo spettacolo hanno aderito diversi protagonisti e la musica del cabaret della danza di Sciacca, ad esibirsi giovanissimi The Fools, band composta da adolescenti che hanno proposto con successo diverse note cover. Lo spazio dedicato al ballo è stato curato da Calogero di Mino con il gruppo show dei De Mambo Kings, mentre Gabriele Carbone, giovanissimo lirico sacenze, ha presentato diversi brani del Bel Canto. Pippo Graffeo, poi accompagnato da Piero Tirnetta delle Antiche Serenate, ha portato al pubblico di San Michele alcuni momenti di poesia e del suo spettacolo di cabaret. Una serata intensa e ricca di emozioni organizzata da Fabio Venezia e Vincenzo Mandracchia che hanno voluto una location diversa per la manifestazione nel quartiere di San Michele, accanto al campanile, con la torre che per l'occasione è stata arricchita da alcuni arazzi realizzati da Lucia Stefanetti. E la piazzetta, meta da anni di incivili che vi abbandonano la spazzatura, è stata finalmente riqualificata e pulita con l'augurio che i cittadini adesso ne abbiano cura. Una vera e propria festa, così come padre Pasqualino aveva immaginato, una festa dei volontari e dei tanti collaboratori del Presidio di Solidarietà di Santa Caterina, insieme a tanti altri cittadini che hanno partecipato alla serata, con l'appuntamento a chiusura della manifestazione alla prossima edizione della festa, magari tra tanti nuovi volontari. Con l'appuntamento all'edizione 2019, ieri sera gli organizzatori di Creazioni sotto le stelle hanno salutato il numeroso pubblico che all'atrio superiore del Palazzo Comunale ha assistito ad un vero e proprio galà tra moda, accangiatura e degustazioni. Soddisfatti gli organizzatori, quattro parrucchieri che da 11 edizioni promuovono l'iniziativa e diversi altri partner commerciali. Vediamo. Con l'arrivederci al 2019 si è chiusa ieri sera Creazioni sotto le stelle, la manifestazione di e con alcuni parrucchieri saccensi che dopo tre anni di stop sono tornati a fare squadra e a presentare una iniziativa che negli anni era diventata un appuntamento fisso dell'estate saccense. Due ore di gala con diversi protagonisti tra musica, ballo, moda, acconciature, stile, tendenze ma anche buon vino e degustazioni. A rendere possibile tutto questo i diversi partner commerciali che hanno aderito alla manifestazione come il Bar Verona, Dave's Atelier e Ciaccio Sposi. E poi soprattutto i parrucchieri, quattro Lilla Pomiglia, Luigi Colletti, Filippo Curreri ed Enzo Bitetto che davanti al pubblico forbici alla mano hanno presentato le nuove tendenze autunnali e realizzato colori, tagli e acconciature. Ma Creazioni sotto le stelle per la sua undicesima edizione ha voluto essere anche altro, non solo hair stylist ma anche moda, cerimonia, sposi, cibo e danze, quelle di Manuela Denz. Un party siciliano portato tra gli ospiti con un occhio anche al cibo e all'intrattenimento del numeroso pubblico che ha partecipato alla serata all'atrio superiore del Palazzo Municipale. Sul palco a tenere le fila della serata, Simona Bruculeri e Gio Prestia. Insomma, soddisfatti gli organizzatori che hanno salutato gli ospiti del gala con la rivederci all'edizione 2019 di Creazioni sotto le stelle. Intanto, per l'edizione di quest'anno, l'appuntamento è sulla nostra emittente dove nei prossimi giorni andrà in onda. Sette note all'italiana è il titolo del concerto di Nanà e di alcuni giovani musicisti saccensi che si svolgerà questa sera alla Badia Grande. Vediamo qualche anticipazione in questo servizio. Sette note all'italiana è il titolo del concerto di Nanà, in programma questa sera con inizio alle ore 21 al complesso monumentale dell'Abbadia Grande. Un omaggio alla musica d'autore, come anticipa l'artista saccense in questa intervista. Beh, è un concerto dedicato ai canto attuali italiani, quindi è un concerto che è dedicato alla musica italiana. Quali autori in particolare? Beh, i più grandi, da Vasco Rossi, da De Andrè, da De Grigori, da Venditti, insomma, Eros Ramazzotti. Ci sarà di divertirsi, da divertirsi ci sarà di cantare anche, quindi speriamo anche che il pubblico canti, dato che siamo un popolo italiano e il popolo canterino, insomma. Con Nanà ad animare la serata diversi giovani musicisti saccensi per quello che si prospetta come uno spettacolo di notevole coinvolgimento. La città di Sciacca offre veramente dei talenti straordinari, ho avuto modo di girare, insomma, per le strade, ho visto casualmente un concerto di un paio di chitarristi, insomma, non conoscevo neanche chi fossero e ho visto che c'era veramente tanta qualità, insomma, gli ho proposto perché no, perché non dare la possibilità a giovani talenti di emergere e fare magari qualcosa un po' più grande. E quindi, insomma, ci saranno ragazzi, avremo anche addirittura un minorenno, un diciassettenno, un chitarrista che suonerà in concerto. Diamo quindi l'appuntamento stasera? L'appuntamento è alla Badia Grande, alle 9.30 e vi aspettiamo numerosi. E adesso i consigli della Mondadori. Ore 9. Lezione di geografia fantastica, dove si scopre perché a Milano non si riesce a prendere il volo, e a Trieste o in Romagna sì. Dove in quel di Perugia si riescono ad imparare 214 lingue e dialetti diversi, dove si capisce come si possa allungare il corso del Po, dove si viene a conoscere che a Bologna si costruiscono i palazzi di gelato e in quel di Barletta le strade di cioccolato. Tante storie e tante rime con le quali Gianni Rodari racconta il nostro paese. Per scoprire questa lunghissima lista e costruire il suo personale tour, ogni lettore, grazie a un QR code, potrà scaricare l'indice ragionato di tutte le città, i luoghi, le cartoline di questa insolita geografia rodariana. Viaggio in Italia, di Gianni Rodari, edito e in Audi. Podismo, Iseccensi, Luigi Giuliana, Katia Nicastro e Alberto Fieramosca, tra gli atleti protagonisti delle gare del weekend a Campio Forito, Favare e Palermo. Giuseppe Marciante della Marathon Club Sciacca, inoltre è stato eletto nel Consiglio Provinciale della FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera. C'è il servizio. Alte tre gare nel weekend per la Marathon Club Sciacca. Sabato, a Campio Forito, la seconda edizione della Correre Oltre Trofeo Mongiovì, che ha ospitato la carovana sportiva del Bio Race, gara valida come prova challenger del circuito. Quattro giri da 1850 metri, su un circuito altamente tecnico e spettacolare, ricavato nel centro storico del paese palermitano. La gara è stata vinta nettamente da Luigi Giuliana, tesserato per la squadra Saccense. Oltre a Giuliana, la Marathon Club era presente con Vincenzo Guardino, Gaspari Allegro, Anna Nicolosi, Calogero Lauretta e Mario Alba. Altra gara a Favara, domenica, il trofeo podistico Città di Favara, corsa valida come sedicesima prova del Grand Prix Interprovinciale Senior Master 2018. La gara è stata vinta da Boumalik Abdelkrim, atleta marocchino dell'Atletica Canicattì. Tra le donne, ottima la Saccense Katia Nicastro, terza assoluta in classifica generale e terza di categoria SF40. A Favara si è corso su un circuito di 1500 metri nel centro storico, da ripetere cinque volte per un totale di sette chilometri e mezzo. Domenica mattina, infine, a Palermo, si è corso la seconda edizione del trofeo Città Metropolitana, a vincere Luigi Cimò e Chiara Immesi, entrambi della società di casa e organizzatrice, ossia la Universitas Palermo. Ottimi risultati per la Marathon Club Sciacca. Il migliore di tutti è stato il presidente Alberto Fieramosca, che si è piazzato al sesto posto in classifica generale. Il miglior risultato nel settore donne, invece, è stato quello di Luana Russo, terza assoluta e prima di categoria SF35. La Marathon Club ha gareggiato a Palermo con 14 atleti. I vincitori di categoria sono stati Luana Russo, Antonio Puccio, Alberto Fieramosca e Francesco Paolo Lazzara. Infine, un atleta della Marathon Club è stato eletto nel rinnovato consiglio provinciale FIDAL, la Federazione d'Atletica Leggera. Si tratta del seccense Giuseppe Marciante, l'unico eletto del territorio di questa parte della provincia, che cercherà di farsi carico delle istanze che verranno dalle società di Sciacca e dell'Interland, con l'obiettivo di rilanciare l'intero movimento e soprattutto l'attività giovanile. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.